La Cina corregge a sorpresa il bilancio dei morti. Nella città fulcro del contagio alla megalopoli di Wuhan, le autorità parlano del 50% dei decessi in più che portano il totale a 3869. Abbiamo solo integrato le morti fuori dagli ospedali, fanno sapere le autorità, ma la correzione solleva dubbi. Pechino è accusata di aver mentito sull'origine del virus, di aver ritardato le misure di contenimento e incarcerato i medici che avevano capito il pericolo del patogeno misterioso.